ciao a tutti sono leonardo rasso della lr immobiliare oggi siamo a roma sud quartiere mezzo cammino esattamente a via ugo pratt e vi presento una villa su tre livelli edificata nel 2010 l'immobile è stato edificato nel 2010 e si presenta con un elegante giardino pavimentato al piano terra attraverso il quale si entra in un salone singolo di 35 metri quadri con cucina a vista sempre al piano terra troviamo anche il primo servizio dell'immobile attraverso una scala interna è possibile raggiungere al primo piano un'ampia camera da letto servita da un terrazzo di circa 20 metri quadri e al piano semi interrato altri due ambienti e il secondo bagno dell'immobile completa la proprietà un posto auto in garage e una cantina abbiamo visitato una deliziosa villetta schiera su tre livelli edificata nel 2010 di classe energetica a dotata di riscaldamento autonomo aria condizionata porta blindata e grade anti intrusione le spese di condominio ammontano a circa 100 euro al mese e la rendita catastale pari ad euro 514,23 l'immobile ha come pertinenze una cantina e un posto auto coperto in autorimessa comune potete visionare foto video e planimetrie di questa deliziosa villetta sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social lr immobiliare è la tua casa in buone mani